Ciao a tutti! Oggi sono qua per consigliarvi dei libri perfetti, secondo me, da leggere in inverno. Non troppo tempo fa, nel video dedicato ai libri sul Natale, vi avevo consigliato in realtà anche dei titoli che non hanno strettamente a che fare con il Natale, ma che sono ambientati in inverno e che hanno questa atmosfera anche un po' nevosa e accogliente, quindi già in quel video ci sono, secondo me, dei buoni spunti, intanto è arrivato Taki, quindi ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Oggi però andrò a consigliarvi altri titoli, tra libri e fumetti, che hanno a che fare con l'inverno, mi ricordano l'inverno, insomma, ci siamo capiti. Ogni scusa è buona per consigliare in realtà dei titoli da leggere, ma prima di iniziare vi ricordo, come al solito, che se volete sostenere il canale potete farli iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. In più, in ogni descrizione video trovate i miei vari link da affiliata e la mia pagina Ko-fi, attraverso cui potete offrirmi una simbolica tazza di te. Vi ringrazio per tutto il sostegno. Direi di partire subito con il libro di gennaio per il CBB Club, bene sì, è uscito ufficialmente il programma di lettura 2022, e questo titolo l'ho scelto per gennaio perché, secondo me, è perfetto per partire col nuovo anno. Sto parlando del Paese delle Nevi di Yasunari Kawabata. Da molti definito come il romanzo più importante di quest'autore, è, al centro, una storia d'amore impossibile e struggente, fra un'esteta di Tokyo e una geisha di una stazione termale in mezzo alle nevi. Può essere considerato un piccolo poema in prosa e qui amore e morte in realtà si intrecciano. Io lo devo ancora portare a termine, ne discuteremo poi a inizio febbraio con il gruppo di lettura, però sono veramente molto curiosa perché da quello che ho letto per adesso, le ambientazioni, oltre a ricordare l'inverno, richiamano tantissimo la parte più tradizionale del Giappone, che io apprezzo particolarmente. Infatti avevo adorato Millegrude, lo stesso autore, proprio perché emerge tantissimo la tradizione. In quel caso si parlava in particolare della cerimonia del tè. Blankets di Craig Thompson è uno dei miei fumetti del cuore. Era un po' che non ve ne parlavo qua sul canale, però se non siete nuovi sicuramente mi avrete già sentito blaterare di questo fumetto, che di nuovo è perfetto per l'inverno perché ha tantissime scene ambientate sulla neve. In quest'opera l'autore si racconta, in particolare si sofferma molto su amore e fede. Parte dalla sua infanzia, dal difficile rapporto che ha appunto con la religione, cresciuto in una famiglia molto tradizionale, a scuola viene invece bullizzato. È un'opera in cui l'autore diciamo si mette a nudo e che parla della vita in generale, focalizzandosi appunto su questi due principali aspetti che hanno avuto e hanno tuttora un peso non indifferente nella vita di Thompson. È ambientato principalmente negli anni 90 in America dove è cresciuto appunto l'autore e l'idea di questa storia nasce dall'idea di descrivere come ci si senta a dormire per la prima volta accanto a qualcuno. Essendo uno dei miei fumati del cuore, penso di aver già detto tanto in passato al riguardo, io adoro il modo in cui l'autore è in grado di comunicare soprattutto visivamente determinate emozioni e il fatto che parli di sue esperienze personali rende la storia molto più intima, personale e inoltre tocca dei temi universali, tutti si possono rivedere nella storia diciamo familiare, il rapporto con il fratello, il conflitto a scuola ma anche super generale l'amore che qua viene declinato non solo per una donna ma che noi possiamo vedere appunto in tante sfumature. Secondo me il titolo è invernale per eccellenza perché queste immagini in mezzo alla neve... wow! Fidanzati dell'inverno di Christelle Dabeau non ha forse troppo a che fare con l'inverno se non per il suo titolo ma in realtà a un certo punto ci troveremo in un'ambientazione abbastanza gelida. È un racconto fantastico che mescola il puro fantasy allo steampunk, da molti viene paragonato un po' ai romanzi di Philip Pullman. La protagonista è una ragazza molto goffa che ha però due poteri, due doni molto speciali. Innanzitutto attraversa gli specchi, da cui il nome della saga l'attraversa specchi. In più con le mani appena tocca degli oggetti è in grado di leggerli, di scoprire la loro storia, chi è stato il loro proprietario, con che cosa hanno a che fare e così via. Lavora tutta tranquilla come curatrice di un museo fino a quando le decane le impongono un matrimonio. Impongono il matrimonio con una famiglia ricca e potente che la porterà nella sua arca sul polo. Per l'esattezza, dal nome possiamo già capire che questo è un ambiente abbastanza rigido e gelido e difficile non soltanto per il clima ma anche per la presenza di varie persone e creature ostili. È una serie che secondo me, se vi piace il fantasy, merita una chance. Il primo libro, soprattutto nella prima parte, forse è un po' lento, non succede granché. A me non ha convinto al 100%. La seconda parte, soprattutto i seguiti di questo romanzo, invece mi hanno presa molto e mi sono piaciuti parecchio. È molto affascinante l'ambientazione magica, complessa, tutto abbastanza articolato. Non è una storia di pura magia, nonostante le premesse, non è una storia che si concentra sulla storia d'amore, quindi mi dispiace deludervi o meno in tal senso. Non si parla poi soltanto di creature, ma forse come avrete capito dalle premesse, un po' anche di giochi di potere. Nel complesso faccio fatica a trovare qualcosa di simile a questa serie, per questo dico che secondo me merita una possibilità. La vetta degli dei di Giro Taniguchi è un'altra opera perfetta per l'inverno, perché vede come protagoniste le montagne, in generale la scalata all'Everest. È una serie composta da cinque volumi che in realtà è tratta da un romanzo, di Baku Yume Makura. Un romanzo che, se non ho capito male, è veramente immenso, e da cui appunto Giro Taniguchi ha tratto questo manga e da questa storia è stato tratto anche un film d'animazione che trovate su Netflix. È un mix fra storia vera, fatti magari realmente accaduti o personaggi realmente esistiti che hanno ispirato altri personaggi ed eventi di finzione. Tutto però ruota in particolare attorno alla misteriosa scomparsa di due alpinisti che nel 1924 hanno scalato l'Everest. Qui ci troviamo in Nepal e all'inizio della storia seguiamo un uomo giapponese che trova una fotocamera e si incuriosisce perché sembra ricondursi proprio a quel periodo. Nel caso in cui dovesse scoprire il rullino e le foto, si rivelerebbe una scoperta importantissima nel mondo dell'alpinismo. È una storia che quindi mescola un po' di storia al mistero. Non preoccupatevi, non c'è bisogno di essere scalatori o appassionati. Io ho il massimo che riesco a scalare, forse il mio divano. È una storia che comunque incuriosisce e secondo me appassiona. L'orcio all'usignolo di Katrin Arden è un altro fantasy, primo di una trilogia, ambientato non soltanto in inverno, ma anche in un paese particolarmente conosciuto per i suoi inverni rigidi o per le storie di folclore che hanno molto a che fare con l'inverno, ovvero la Russia. Vasilisa non è una bambina come le altre perché è dotata di un particolare dono. Può infatti vedere o comunque sentire interagire con gli spiriti. Deve stare però attenta a questo dono perché diciamo che non è proprio ben visto. In particolare la sua matrigna e un prete giunto da poco nel villaggio tenteranno di sradicare un po' le vecchie tradizioni legate appunto al folclore, quindi tutte quelle varie credenze ad esempio sugli spiriti della natura, eccetera. Questo porterà non poco scompiglio. È una storia che sta molto di fiaba non soltanto per la sua radice con il folclore, ma anche per il modo in cui viene raccontata. Si rifà poi a una serie di credenze popolari, tradizioni, leggende che io trovo particolarmente affascinanti, soprattutto nel periodo invernale. Non so, per me l'inverno è proprio quel periodo in cui stai vicino magari alla stufetta o al caminetto o comunque al caldo e ti leggi una storia anche fantastica che ti sape in qualche modo riscaldare un po' il cuore. Il fascino secondo me di questo libro è principalmente l'ambientazione. Molto suggestiva. Ci troviamo poi in un villaggio, non in una grande città. È ambientato circa nel 1300, quindi un'epoca e un luogo completamente differenti da noi. Per mio gusto è leggermente lento nella sua narrazione, però molte persone hanno trovato questa, diciamo, lentezza invece suggestiva, evocativa e in linea appunto con la storia e soprattutto con il suo parallelismo con una delle tante leggende che vengono raccontate all'interno. La protagonista poi è una ragazza molto forte, seguiamo la sua crescita. Insomma, se siete in cerca di una avventura, di una storia che ricordi un po' le tradizioni, le storie popolari, sicuramente è da dargli un'opportunità. L'ultimo libro che voglio consigliarvi è Parole di conforto di Matt Haig. Gennaio in particolare non è soltanto il primo mese dell'anno, quindi simbolo di ripartenza, nuovi obiettivi, nuovo anno, nuova me, ma è anche uno dei mesi, diciamo, più tristi dell'anno. Non a caso cade proprio a gennaio il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno. E proprio per questo motivo, secondo me, una lettura di conforto non fa male. È stato uno dei libri che ho preferito nel 2021, proprio perché è una raccolta di pensieri sparsi dell'autore, alcune sue esperienze personali, alcune citazioni o eventi che riguardino un po' in generale la salute mentale, l'accettazione. È secondo me un libro da utilizzare al bisogno, quindi nel momento in cui ci si sente tristi, demoralizzati, sconfortati per qualcosa, demotivati, tristi anche senza un reale motivo. Secondo me questo è un autore che dà il suo meglio nei libri di non fiction, per cui è un titolo che io vi consiglio caldamente se state cercando qualcosa di questo tipo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa consigliereste voi da leggere in inverno, valgono sia libri che fumetti, sono molto curiosa di sapere i vostri consigli. Io spero di cuore che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!